Ciao a tutti eccoci qui per un nuovo unboxing riguardante il ciclismo stiamo parlando di un porta borraccia della Elite andiamolo a vedere da vicino questo è un modello costume race in nylon, in pratica è plastica però molto resistente come vediamo in mezzo qui non è collegato quindi c'è possibilità di allargarlo di farlo adattare alla borraccia però con le borracce della Elite dovrebbe funzionare benissimo e reggerle benissimo durante i nostri giri in bici andiamo a vedere, vedete, made in Italy questi sono della Elite, questi porta borraccia questo si può trovare tranquillamente su Amazon a un prezzo più conveniente rispetto ai normali negozi di ciclismo vi lascio il link in descrizione ci sono anche altre colorazioni questa parte, vedete, è in gomma come si vede possiamo trovare il logo del Elite qui vicino, ecco qui andiamo a zoomare andiamolo a osservare da tutti i lati vedete qui presenta il logo dell'Elite il modello poi anche davanti, vedete, Elite si adatta a tutti i tipi di bici vedete c'è più fuori per agganciarla alla nostra bici per avvitarlo al telaio bene, ora andremo a fare un test sulla mia bici vedremo se la borraccia è facile da sganciare da questo porta borraccia e procediamo con i test bene, eccoci qui ho montato il porta borraccia sulla mia bici adesso andiamo a provarlo con una borraccia della Elite del Team Sky ultimo modello come si vede ed ecco, inseriamo all'interno del porta borraccia ecco qui è un po' duro adesso però penso con il tempo comunque si allargerà questo porta borraccia però durante le nostre uscite in bici non dovrebbe sganciarsi la borraccia vedete, si è agganciata perfettamente è duro, non si muove tantissimo adesso andiamo a rimuoverla è facile anche da rimuovere vediamo se lascia dei segni sulle scritte inseriamo e poi ecco qui non rovina nemmeno la borraccia più di tanto ovviamente l'ho fatto solo una volta forse facendolo più volte il colore delle scritte si toglierà però è un ottimo porta borraccia per oggi è tutto concludiamo qui il nostro video di unboxing su questo porta borraccia della Elite ci vediamo al prossimo video ciao a tutti